Variante Omicron 2 in Umbria, già individuata e tracciata la scorsa settimana, è la notizia che la dottoressa Antonella Mencacci porta come novità alla conferenza stampa settimanale che ha tracciato la fotografia della pandemia in Umbria al momento attuale. Una situazione stabile sotto controllo con 1.672 nuovi positivi e ricoveri in leggera salita, 230 oggi rispetto ai 228 di ieri, stabili le intensive. In questo quadro Omicron 2 non dovrebbe avere effetti di grande rilievo, secondo gli esperti, non essendo, affermato la dottoressa Mencacci, più infettiva di Omicron 1. Preoccupa invece il callo evidente delle vaccinazioni, soprattutto delle prime dosi, anche per questo la Regione ha messo in campo due provvedimenti, l'invio di SMS a soggetti che potrebbero già effettuare la terza dose e un Vaccin Day per domenica 6 febbraio, dove si potrà accedere ai punti vaccinali senza prenotazione. In Alto Chiascio, aperto il punto vaccinale di Gualdo Tadino per gli over 12, a Gubbio era già stato individuato come giorno utile per la vaccinazione dei minori, in Alto Tevere quello di Umbertide sempre per gli over 12. A margine della conferenza stampa, l'assessore regionale Luca Coletto ha annunciato la riapertura delle pratiche di accreditamento al sistema sanitario regionale da parte di strutture private.